Zona rossa e rischio vulcanico sono da sempre i temi caldi, è proprio il caso di dirlo, della gestione del territorio flegreo. E sono appunto gli argomenti affrontati ieri durante una riunione del Consiglio Comunale, che ha richiesto all'Aggiunta Municipale l'elaborazione di un piano di ridefinizione degli assetti urbani, che faccia delle aree periferiche di Monteruscello, Licola, Toiano e Lucrino nuovi punti nevralgici da supportare in caso di pericolo sismico. Con voto unanime è stato formalizzato l'incarico agli organi comunali predisposti a redigere un programma da presentare all'incontro coi vertici della protezione civile che si terrà a breve. Un passaggio obbligato che tiene conto degli ultimi dati giunti le scorse settimane dai sismologi, che hanno comunicato l'allargamento del bacino di rischio dai comuni flegrei all'area di Chiaiano, per un totale, in termini demografici, di oltre 700.000 abitanti. Agli inizi della prossima settimana, infatti, si svolgerà una riunione con i rappresentanti degli altri comuni coinvolti, per fare il punto sulle risorse e avviare i piani di evacuazione e di gemellaggio con le regioni italiane. Decentramento urbano, messa in sicurezza delle abitazioni non a norma antisismica, corsi di educazione all'interno delle scuole e potenziamento della segnaletica stradale, sono i punti su cui intende concentrarsi l'amministrazione putiolana. Il tutto all'indomani dell'inaugurazione del nuovo centro operativo comunale di Monteruscello, incaricato a spese del comune di monitorare l'area di rischio in collegamento con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il primo caso in Italia, ha sottolineato il sindaco Vincenzo Figliolia, in cui si lavora un progetto così ambizioso, mettendo in campo solo le forze dell'amministrazione locale.